Benvenuti a tutti e ben ritrovati amici della Trading Room, con questa nuova sessione andremo a parlare dell'oro e in particolare del Bitcoin come beni rifugio. Però, prima di tutto questo, sigla! Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonica. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido. I miei soldi li gestisco io. Allora, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, si è parlato tanto del Bitcoin, o meglio, si è tornato a parlare tanto del Bitcoin dopo l'exploit che c'era stato tra il 2017 e il 2018. Ma al di là di tutte le chiacchiere che sono state fatte, si può già pensare che il Bitcoin può essere trattato come un'alternativa all'oro in termini di bene rifugio? Beh, allora andiamolo a vedere insieme, partendo come sempre un attimino da uno dei grafici, insomma, che abbiamo a disposizione. In questo caso, come potete vedere, non vi ho condiviso il grafico, diciamo, del Bitcoin, inteso proprio come indice o come futures, ma vi ho condiviso questo ETF, BTCE, che viene messo a disposizione sul mercato europeo. Perché sui Bitcoin, per l'appunto, da oramai un annetto circa, si può investire anche tramite strumenti finanziari un pochettino più comuni o che ci fanno stare, se vogliamo, anche un po' più tranquilli, come ad esempio l'ETF. Come si può vedere, questo è un grafico di un anno, se poi fosse un po' più lungo, comunque vedremmo la caratteristica principale del Bitcoin, è l'enorme volatilità. Perché effettivamente il Bitcoin, così come qualunque altra criptovaluta, nasce come moneta digitale, ma ora, come ora, viene utilizzata come un investimento estremamente speculativo. Infatti, se vediamo l'andamento qui, per fare un parallelo con l'andamento del Bitcoin, considerate che un singolo Bitcoin in questo momento costa circa 30.000 euro. E effettivamente una quota di questo ETF, come potete vedere, costa solamente 30 euro. Quindi, volendo, uno può già iniziare a fare un piccolo investimento, partendo da cifre veramente molto, molto ridotte. Come si può vedere, però, i Bitcoin, fino all'estate dell'anno scorso, circa un anno fa, valeva tra i 7 e gli 8.000 euro un Bitcoin. Poi vediamo questo movimento che ha fatto, dall'estate dell'anno scorso fino ad arrivare a metà aprile di quest'anno, quando è arrivato a circa 55.000 euro al Bitcoin, muovendosi per più del 514% a rialzo. Dopodiché, negli ultimi due mesi, abbiamo visto, diciamo, uno storno abbastanza importante che gli ha fatto perdere più o meno un 45% del valore, tornando, diciamo, andando a fare un piccolo, provando, diciamo, a rimbalzare su questi livelli di 27-28.000 euro per Bitcoin, o nel caso di questo ETF, 27-28 euro. Quindi, come possiamo vedere, sicuramente la prima caratteristica è la grandissima volatilità e la tendenza, comunque, positiva. Cioè, la tendenza del valore a crescere nel tempo. Come l'oro, il Bitcoin è una riserva di valore non sovrana. E quindi significa che non è che viene stampato da un paese come il denaro liquido, ma non è sovrano, può essere scambiato in maniera assolutamente autonoma e libera. Tuttavia, questa volatilità è dovuta a causa della sua natura speculativa e delle infrastrutture di mercato, diciamo, che utilizza, che sono ancora in via di sviluppo, come ad esempio la blockchain e tutti i mercati, ovviamente, che vi sono collegati. Inoltre, una problematica legata, se vogliamo, ai Bitcoin è proprio la mancanza di regolamentazione, o meglio, solamente adesso, in maniera timida, si sta iniziando a regolamentare anche il fatto di detenere dei Bitcoin, cioè capire anche a livello di tassazione come ci si debba comportare. Quest'anno sono arrivate tantissime chiamate nei nostri uffici per quanto riguarda proprio persone che avevano Bitcoin, hanno realizzato plus valenza, o magari ce li hanno ancora in portafoglio e non sanno come denunciarli. E ci stiamo attrezzando, grazie ai nostri professionisti, per poter dare assistenza anche su questa tematica. Però al momento c'è un po' di, diciamo, ancora, non c'è la massima chiarezza. C'è chi dice che debbono essere utilizzati, un po' come se fossero valute, quindi denunciati, solo se si supera la quota di 51 mila euro per almeno sette giorni all'anno. Chi dice che invece devono essere tassati esattamente col 26% come qualunque altro strumento finanziario e quindi chiaramente questa mancanza di regolamentazione lascia qualche dubbio anche a chi vuole investire. Però già il fatto che ci siano degli ETF e ci siano tanti fondi comuni di investimento che stiano iniziando ad inserire piccole parti di Bitcoin nei propri investimenti deve lasciare ben sperare per il futuro. Per quanto riguarda l'oro, invece, lo conosciamo benissimo, al momento è sempre il mercato più grande ed è il bene rifugio più sicuro e utilizzato dagli investitori. Tant'è che anche la sua tendenza negli ultimi anni, se lo guardiamo ad esempio a 5 anni, è stata sicuramente positiva. Vedete che comunque dai minimi toccati a fine, a metà 2018, insomma, anche l'oro ha fatto un bel movimento, ha fatto più del 50% a rialzo, con punte anche del 70%. È chiaro che non ha le stesse oscillazioni, la stessa volatilità rispetto al Bitcoin. E questo è proprio il motivo per il quale lo rende comunque un bene rifugio importante. Però l'anno scorso, soprattutto, o meglio, scusate, all'inizio di quest'anno, soprattutto in particolari momenti in cui il Bitcoin spingeva a rialzo, per le prime volte ho visto invece dei movimenti di vendita sull'oro. Il che significa che, insomma, alcune masse stanno iniziando a muoversi anche nei confronti dei Bitcoin, magari togliendo una piccola parte all'oro. Perché, dal mio punto di vista, ecco, in questo modo deve essere trattato. Cioè, il Bitcoin può essere giusto assolutamente averne una parte nel proprio portafoglio, ma una parte infinitamente più piccola rispetto a quella che magari andiamo a dedicare all'oro e, in generale, ai nostri investimenti. Però non ci vediamo assolutamente nulla di male nell'andare, diciamo, a iniziare, quantomeno a investire su questo mercato, perché le possibilità sono tante. Chiaramente, sempre cifre che ci possiamo permettere, eventualmente, di perdere e di mettere sul piatto nel momento in cui andiamo a fare investimenti. Quindi questo è un po' il mio, il nostro punto di vista. Se il video è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo e iscrivetevi al nostro canale. Grazie ancora e buona giornata a tutti.